Salve Mestre Giuseppe Livaldo della Provincia Cappelli, anche stasera si è verificato che il Crotone se mettiamo assieme i minuti che ha dominato la partita, poteva segnare diversi però cede poi il gioco. I cambi hanno portato qualche cosa, ma la sostituzione di Filippo è dovuta a motivi fattici o tecnici o fisici? Non abbiamo la presunzione di dire che dominiamo tutte le partite, però sinceramente non so quanto la Tur si abbia dominato il Crotone, poi stiamo parlando di un 3-1, ci sono stati tantissimi episodi, io mi ricordo tantissime possibilità di far gol più dalla parte del Crotone che dalla parte della Turis e poi se giudichiamo questo faccio fatica a dire sul dominio della partita, faccio fatica a dare un peso, per me non c'è stato e quindi è stato frutto di episodi glomerosamente perché fino al primo gol loro penso che noi abbiamo sbagliato due o tre gol clamorosi dove chiaramente se passi in vantaggio cambiano le partite, sono passati in vantaggio loro, dopo abbiamo commesso due errori su cross laterali dove comunque lì dobbiamo assolutamente migliorare un impatto fisico perché fa la differenza, però io tantissime occasioni non me la ricordo, di fronte avevamo una squadra che comunque è allenata per giocare quindi ha trovato spesso le tre punte davanti, non mi ricordo tantissime parlate di Dini, forse non me le ricordo, quindi è difficile parlare di dominio in una partita del genere, io oggi sono rammaricato perché per una partita del genere per quante volte siamo arrivati dentro l'area loro portare a casa zero punti per me non ci sta, però dentro questo abbiamo sbagliato tante cose sia nella finalizzazione perché se non si fa gol si stanno commettendo degli errori, soprattutto quando si è vicini a fare gol e comunque abbiamo permesso alla Turris e comunque con i loro tiri in porta di fare tre gol, quindi quando tu subisci tre tiri in porta, tre gol è chiaro che degli errori li abbiamo commessi e che hanno condizionato il risultato. Per quanto riguarda il cambio, siamo a inizio stagione, stavamo rimontando, ho preferito, ho voluto mettere le due punte, devo sacrificare un centrocampista per forza, ho preferito mantenere, come dire, Felipe stava facendo bene quindi non è assolutamente un giudizio tecnico perché è uno dei ragazzi più positivi di quest'anno per adesso e siamo felicissimi del suo acquisto. Ho voluto dare la possibilità di rimonta ai ragazzi dell'anno scorso. Mister, buonasera, per quello che guida nella C-News 24, il rotone in forma. Al di là delle interpretazioni e della lettura della gara, un dato però è certo, l'episodio al 21esimo si becca gol, però da quel minuto si arriva al secondo gol beccato e anche alla fine del primo tempo dove si smette di giocare. C'è un problema caratteriale, ce lo portiamo anche a quello dell'anno scorso, oltre a qualche nota positiva. La squadra va sotto 2-0, una squadra che doveva vincere 2-3-0 fino al primo, ci sta che subisce 10 minuti un quarto d'ora, parliamo di questo tempo qui, non di più. Quindi ci sta che loro abbiano palleggiato un po' di più e noi abbiamo sbagliato qualche pressione in più, ma non mi ricordo occasioni tra i loro gol e non mi ricordo neanche dopo il gol, io non mi ricordo un'occasione clamorosa di dire ok c'è andata bene questa palla, io non mi ricordo un'occasione, quindi sì, perché secondo me i primi 20 minuti, 25 minuti li abbiamo fatti molto bene, però dopo ti ritrovi da un contropiede nostro, quasi 2-1, la stessa azione di 21-0 per loro e poi un calcio d'angolo che ti condiziona. 0-2 mi sembrava in quel momento un risultato pesante, probabilmente l'ha sentito anche la squadra, però non parlo di carattere perché secondo me dopo il secondo tempo parti subito molto bene, perché fai subito con i 50 secondi e quindi è il preludio per poter rimontare addirittura completamente la partita, perché secondo me l'inerzia poteva essere quella, prendi gol dopo 10 secondi ancora e lì la squadra comunque non si è mai allungata più di tanto, ha cercato di giocare, ha creato tante volte la palla dentro l'area, addirittura abbiamo rischiato di fare il 3 pari alla fine, quindi la squadra ci ha creduto, quindi non penso che sia un positivo caratteriale, che durante le partite quando prendi degli episodi negativi come i gol ci può stare che subisci per 10 minuti un quarto d'ora ha un momento negativo e quindi la squadra perde un po' di sicurezza. 1, 2, 3, Francesco Sibilla Credo che sia un episodio che non è nato questa partita, tranne forse il fatto che praticamente però c'è una cosa che a me non ha detto nulla per niente, ovvero Petriccione e Filippe insieme sembra che facciano scopa e si eligono, non so come la vede lei, si riproporrà anche insieme? No ma non penso che i tre gol subiti, e quindi sono due giocatori che hanno caratteristiche simili, ma per me sanno giocare tutte e due, la palla quando gli andiamo la palla a loro difficilmente la perdono, sanno far girare la squadra, quindi so cosa possono dare in positivo e so chiaramente, ma ogni giocatore c'è l'aspetto positivo e l'aspetto negativo, quindi nella nostra rosa io l'ho voluta fare dove il centrocampo per me ci vuole gente che comunque ha detto un tempo che non gli scotta la palla, che la vogliono andare a prendere, loro due l'hanno tutte e due e quindi questo io oggi l'ho visto anche molto bene anche insieme perché comunque a chi tocca la palla hanno fatto girare l'azione, Petriccione ha la possibilità anche di alzarsi un po' di più perché il primo tempo ha fatto due o tre assist alzandosi più perché Felipe comunque ha anche la prima regia, quindi secondo me si completa, non ho visto in questa sconfitta il problema della loro coesistenza, poi chiaramente siamo abituati a vedere uno che corre e l'altro che gioca, in Italia siamo abituati così, a me piace due che gioca, sì c'è questa tara, è vero, è chiaro che devo notare che i compagni vanno più da Petriccione che da Felipe, chiaro che lì è... no è un ragazzo, no no, Petriccione ha carisma, si fa dalla palla sempre ma io sto vedendo un ragazzo, adesso Felipe lo sto conoscendo adesso, è un mese che è con noi, lo sto conoscendo, un ragazzo con grande personalità, la palla ha perso qualche pallone oggi il primo tempo ma c'è anche un'aggressione importante della Turis perché è una delle caratteristiche migliori di questa squadra, quindi sono giocatori che si vogliono far dare la palla, quindi l'errore tecnico ci sta, perdere ogni tanto la palla ci sta, li riconosco a tutte e due grandi personalità, qualità tecnica, fanno girare la squadra, insomma io al centrocampista chiedo questo, poi il giorno che non saranno comunque non daranno equilibri alla squadra posso tornare al suo discorso e posso essere d'accordo con lei, però oggi non è la partita di oggi, oggi non mi è sembrato che il loro modo di giocare possa essere stato un problema per la squadra. Salve mister, io volevo parlare anch'io un po' di singoli, non della mediana perché poi il calcio è bello perché lo vediamo tutti in modo leggermente diverso, ma ci sono quattro giocatori che secondo me oggi l'hanno un po' tradita, parlo di Leo Tribuzzi, Dursi è vitale. Io non ho visto, non l'errore che ci sta sempre, ma quella cattiveria che le chiede alla squadra quando bisogna prendere il risultato. No, ma per quanto riguarda Danielè è un ragazzo che si sta ambientando, è da noi da venti giorni, io lo conosco, è un ragazzo affidabile, ho già sbagliato qualche pallone in più d'appoggio all'inizio e quindi già c'è stata qualche mezza critica, ma quando giochi nel crotone fa parte del gioco, quindi è un ragazzo affidabilissimo, che ha velocità, che ha colpo di testa, quindi secondo me ci può stare che dentro una partita qualche giocatore su un campionato possa fare qualche partita anche sufficiente o appena sotto la sufficienza perché fa parte di un percorso di un campionato. Sugli altri sono d'accordo fino a un certo punto, secondo me Dulce è stato uno dei migliori nel primo tempo perché avrà crossato 7-8 volte da destra, Tribuzzi ha sbagliato qualche occasione di troppo perché gli sono capitati gli episodi decisivi di una partita che poi non hanno condizionato il risultato, ma ha corso, ha fatto, nessuno di questi ragazzi mi ha tradito perché gli ho visto l'impegno, poi abbiamo commesso degli errori anche personali, sì, ma nel campo si commettono errori, assolutamente. Sono d'accordo sugli errori, non era una, vuole rimettere la croce addosso, però è quando l'errore è ripetuto, per esempio Tribuzzi sulla sovrapposizione di Giron, l'unica volta che gli ha dato la palla abbiamo fatto gol, poi ha rifatto perennemente sempre la stessa azione, lei sa che io sono un fan di Tribuzzi, non è una critica. No, ma il suo modo di giocare fa salire la squadra, poi sicuramente avrà perso qualche tempo di gioco in più, ma quello è una, noi sull'esterno cerchiamo di andare tante volte in sovrapposizione, sia a destra che a sinistra, la facciamo con ripetizione, l'abbiamo fatto tante volte, abbiamo riempito l'area soprattutto dopo con le due punte, quindi siamo andati vicino al gol più di una volta, è chiaro che quando un esterno poi entra dentro fa la scelta, fa la scelta di poter giocare dentro o di premiare la, come si dice da noi, e premiare la sovrapposizione, l'abbiamo premiata oggi un pochino meno, però comunque mi ricordo tanti cross di Giron, quindi qualcuno, insomma io, quindi probabilmente qualche partita, quindi questo vuol dire che se non gliela date tante, Giron ha fatto tanti cross, comunque tante volte siamo stati là, poi ci sono giocatori importanti e quindi noi, io da loro mi aspetto sempre di più, questo senza dubbio, però ho visto un atteggiamento positivo, cioè una squadra è stata male, ha voluto, ha voluto nelle difficoltà della partita, che ce ne sono state tante, perché siamo stati in una squadra sempre di rincorsa e quindi tranne i primi 20 minuti e quindi però ho visto uno spirito e la squadra ha creato tanto, ha schiacciato la squadra avversaria, io nel secondo tempo loro non mi ricordo occasioni, e quindi ramari che tanto dai, ramari che tanto. Saporito, buonasera, ciao mister, io più che quello che avete detto a me, un po' mi ha infastidito un po', un pizzico di supponenza in occasione del primo gol per esempio, quella palla persa in quel modo e soprattutto le distrazioni, la palla inattiva, in aria, sappiamo che loro hanno un uomo forte che si chiama Riccardo Maniero, è quello che deve essere il pericolo pubblico numero uno, vederlo saltare in quel modo senza nemmeno una... e quindi, no, dico le distrazioni, è una cosa che bisogna eliminare. Sono sicuramente modi di difendere, noi difendiamo a zona, ma con questo non vuol dire che un giocatore debba saltare così facilmente, cioè ha preso il tempo, non abbiamo creato il duello e quindi per un giocatore così importante è stato facilissimo farci gol. Sul secondo ha preso il tempo, comunque ha commesso un mezzo fallo, però dentro l'area insomma ci vuole quella scaltrezza in più, quindi come ho detto precedentemente non ci nascondiamo. Sono stati due episodi che hanno caratterizzato il risultato oltre i meriti per me della partita stessa e quindi quelle sono cose che dobbiamo assolutamente migliorare. Sono d'accordo. Salve mister Laratta, Tgical24.it. Due appunti, mi ricollego a quella del collega Saporiti, qualche errore di troppo forse nel possesso palla e la scelta di far entrare Vutai al sessantesimo. Sì, Vutai è con noi da una decina di giorni, quindi avevo già in mente di mettere le due punte perché me la sto provando da dietro, eravamo sotto con il risultato, quindi stavamo andando tante volte al cross e quindi abbiamo riempito l'area e in effetti nella mezz'ora che ha fatto, sia lui che Gomez hanno impensierito non poco la difesa, ha fatto gol, ci è andato vicino un colpo di testa, era davanti solo al portiere, quindi abbiamo dato l'impressione di poter fare gol su ogni cross o comunque di dare in fastidio, quindi noi sappiamo che questa può essere una scelta che potremo fare in futuro. Ma fino a quel momento Tuminello con me aveva fatto molto bene, secondo me aveva fatto aperto il gioco, ha fatto un bellissimo gol, quindi non c'era la necessità di… poi quando siamo andati sotto di tre e cominciava a passare i minuti, avevamo bisogno, siccome abbiamo in rosa giocatori importanti, perché io li reputo tutti e tre titolari e giocatori importanti, lo hanno dimostrato oggi Tuminello fino a quel momento, perché oggi Tuminello avrebbe potuto fare due o tre gol e sia Gomez che Vutai che hanno subito inciso comunque nell'area avversaria. Grazie.